Guarda che dietro c'hai una nuvola di fumo nero. Lo so, è da 20 km che cerca di sopassarmi, ma non c'è mica riuscita. Ma è la tua macchina che fuma. Ah, ecco perché eri così spompata. Questa è la volta buona che la cambio. Ma che cambiare macchina, cambia l'olio. Ci vuole Sint 2000, Sint 2000, la potenza. Posso Agip. Oi. Bello entrare all'Agip, eh? No, è di un bello. E guidare col motore che ha una potenza? È di un bello più bello. Dai gestori Agip. Oi. Agip Petrovi. Uno stile italiano.